Figa raga, abbiamo chiuso. Raga, allora, non vi preoccupate. Abbiamo chiuso il negozio fisico, vi spiego perché, ma l'online continua sempre ed è più grosso di prima. Raga, allora, una premessa. Come sapete, eravamo qua dal 95. Negli anni ne abbiamo viste di tutte. Purtroppo, dopo il Covid, è successa una cosa un po' brutta. Tante aziende hanno accelerato un processo che già c'era, cioè quello di andare dirette, levandosi in negozi come il nostro, non eccessivamente grandi e non in città importanti. E quindi, da tanti siamo stati messi alle spalle e non ci servivano più i prodotti. Non sto qua neanche a fare i nomi dei brand. Che cosa succede? Se tu hai un negozio solamente col tecnico di skate, non ti serve avere un posto fisico, perché non ce la fai a coprire le spese. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di chiudere il fisico, quindi non saremo più nel negozio fisico di Seregno, anche se il magazzino è qua vicino, e abbiamo, come sapete, investito tanto nell'online. Tra l'altro, in questi giorni sull'online abbiamo caricato un botto di streetwear appena arrivato. Vans, Carhartt, stiamo caricando Dickies, Dallinoir, propagando una marea di roba, quindi lo vedrete poi. Tutta la parte di skate, ovviamente, è in ampliamento e il servizio è lo stesso di prima. Se vi trovate bene, sapete com'è, se vi siete trovati male, rimane sempre quello. E quindi, raga, vi faccio vedere adesso com'è il negozio. Mi viene una lacrima. Però vi fate un'idea, almeno, di com'era prima, com'è adesso. Questa, raga, è la parete dove c'erano tutte le tavole, le tavole complete, i cruiser, ed è quella dove facciamo la maggior parte dei video. Adesso non c'è niente di niente. Qua così, raga, nei video non l'avete mai vista, ma c'era tutta la parte di abbigliamento, felpe, magliette, tutto. Era qua. Raga, questa era un'altra parte, sempre presente nei video. Qua c'erano tutte le tavole singole, e qua così c'erano track, ruote, la vetrinetta di legno, track, ruote, tutto l'hardware che serviva. Ora non c'è più un cazzo. Questa, raga, era la parete con tutte le tavole da collezione, e questa era una delle parete a quale tenevo di più, perché, cazzo, tavole della madonna, che non vi preoccupate, vi faccio vedere dove sono. Sono, ho teccato, mi ammazzo. Raga, sono qua dentro, è tutto qua dentro. E questa, raga, era l'altra parete, dove c'erano degli espositori con tutto l'abbigliamento, e poi sopra c'erano i cruiser, i longboard e tutto. Quindi questo è ciò che rimane, infatti fa un bel giro, Ricky inquadra, ciò che rimane del negozio. Qua non c'è più un cazzo, lì è la vetrina, e queste sono le ultime minchiate che stiamo portando via. Quindi, raga, non vi preoccupate, online continua sempre, siamo sempre qua a darvi il miglior servizio che si possa dare, spero. Il magazzino è qua vicino, se avete necessità di fare dei ritiri locali, avvisatemi prima che comunque lo si può fare, altrimenti, raga, spedizione è gratis sulla maggior parte dei prodotti. Ah, dimenticavo, raga, se vi piace il video, iscrivetevi al canale, fatelo vedere a qualche amico, non perché questo gli è d'aiuto, ma per fargli vedere che cosa è successo. E ricordatevi che continuiamo online. Bella!